A mia moglie, alla mia famiglia e a tutte le persone di buona volontà, chi crede e chi non crede. Allora, auguri a papà che mi torno presto a casa, che stai in ospedale, quindi auguri papà. Shopping è tornato, seguiteci per tutte le novità per la vostra Pasqua e chi vuole può inviare un videomessaggio di auguri attraverso WhatsApp al 349 46 35 019.